ragazzi bentornati sul canale oggi vi porterò con me non a riparare droni a volare con droni o quant'altro ma vi porterò come a fare una giornata di mare ora è circa ora di pranzo sospettando che i miei genitori che mi stanno ospitando in questo weekend nella mia casa natale diciamo preparino il pranzo e verrete con me perché vi voglio mostrare un'attività che a me piace fare anche se non ho molto tempo per farla ovvero il kitesurf infatti oggi ci sono le condizioni perfette perché il sole non è fortissimo oggi purtroppo c'è un po di nuvole infatti stamattina al mare con mia figlia non è che si stava proprio benissimo però c'è il vento diciamo adatto è un vento un po sostenuto che serve appunto per fare queste attività quindi mi fa piacere che documentare la giornata spero di condividere con voi questi momenti e creare un video interessante e niente restate sintonizzati e guardiamo un po cosa viene fuori a dopo e dopo una ricchissima mangiata e una ancora più ricca bevuta l'ideale per andare a farsi il bagno ora e morire praticamente sul fondo del mare cadendo come un piombo siamo arrivati finalmente a destinazione ho avuto anche quello che ho trovato un parcheggino all'ombra così posso lasciare in macchina il drone con le batterie altrimenti se le avessi lasciate al sole sarebbe stato come buttare via le batterie il primo giorno quindi ho avuto fortuna a trovare questo posticino sotto un albero lascio i finestrini leggermente aperti sperando che non mi spacchino la macchina ma siamo una zona abbastanza popolata quindi non penso ci siano questi problemi ora preparo la gopro portato anche un fasciatura così a pettorale modo a farvi vedere qualche ripresa anche in navigazione e niente raggiungiamo la spiaggia grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti